Che cosa mi muove? Mi muove viaggiare, intanto perché è un momento di stacco dal lavoro e poi perché mi consente di conoscere cose completamente nuove, spesso che non possiamo neanche immaginare se non sono vissuti in prima persona. È un momento di relax della mente ma anche un momento di crescita perché si impara ad avere a che fare con culture completamente differenti. Viaggiare è da sempre la cosa che mi anima di più e spero di poterlo fare sempre anche dopo il lavoro.